Assessore, lavoro in corso per la realizzazione del McDonald's, il primo McDonald's a Teramo, come procedono? Sì, tutto procede secondo cronoprogramma, in questa fase si sta realizzando il miglioramento sismico di tutta la struttura e dopodiché si posizionerà il McDonald's al di sopra del parcheggio. Mi dicono che la data dei fini lavori è confermata per novembre, quindi si procede in questa direzione con tutte le altre comunicazioni che sono confermate, anche in termini di assunzioni, nel senso che la McDonald's con molta probabilità farà una richiesta di suolo pubblico in Piazza Martiri per fare i colloqui con tutte le candidature in Piazza Martiri in maniera molto trasparente. C'è già una data per questa occupazione di suolo pubblico per le assunzioni? Su questo no, però ci hanno confermato che è un po' questa la modalità che avevano scelto per questa nuova apertura perché comunque è una struttura che avrà bisogno di decine di dipendenti, è una struttura che ha tutti i servizi della catena, quindi sarà molto popolata sotto l'aspetto dei dipendenti, quindi hanno voluto applicare questa procedura. Adesso attendiamo, in genere loro fanno le assunzioni prima proprio per fare la formazione, quindi credo che non passerà molto.